Compagnia Sipario 21, salviamo il salvabile per la regia di Maurizio Nicastro, si va in scena il 16 gennaio prossimo al Teatro Eschilo con quanta emozione, è un debutto questo? E' un debutto per questa compagnia e quindi c'è tanta tensione, tanta aspettativa, tanti amici che sono stati chiaramente coinvolti per cui cercheremo fino all'ultimo di provare, riprovare perché il dettaglio va curato e va curato bene. La storia? La storia salviamo il salvabile parte da un misandistenni, una cosa che non viene capita dal nipote di queste due zie ricche e quindi su questo si innescono tante situazioni che chiaramente con gag varie eccetera vengono fuori i vari personaggi che compongono la commedia perché ognuno di loro cercherà un obiettivo, di raggiungere un obiettivo. Maria Gionnone tra i soci fondatori di questa nuova associazione che si chiama Demetra, un nome molto importante, quali sono le vostre mission? Non ci siamo soffermati solamente sul teatro che comunque rimane l'amore per ognuno di noi, ma abbiamo pensato ad un'associazione che potesse in qualche modo dare voce a tutte le espressività artistiche e culturali presenti nel nostro territorio. Sentiremo parlare in questa associazione di musica, spettacolo di vario genere, poesie, laboratori teatrali perché noi pensiamo che la cultura arricchisca il territorio e magari possa anche in qualche modo educare le coscienze proprio all'idea del bello. Proprio perché questa è un'associazione eclettica troviamo anche il nostro croce a tardi che è già noto alla nostra città per altre forme d'arte. Abbiamo organizzato delle importanti manifestazioni, delle rassegne d'arte e adesso invece ci sperimentiamo in una nuova avventura che è il teatro con quale spirito? Siamo qui a fondare questa nuova associazione, questa nuova compagnia proprio perché siamo convinti che Gela è una bellissima realtà e perciò deve essere sfruttata in tutte le sue sfaccettature. Siamo pronti per il debutto di giorno 16, vi aspettiamo, aspettiamo la città che venga in massa al teatro perché sicuramente ne vedrete delle belle.